Siamo con mister Paolo Gallito della Nuova Origina. Paolo, il risultato secondo me, come ho detto anche con giocatori e allenatori della Taz Squadra, mi sembra un po' pesante. Però il Borgoratti ha meritato di vincere e devo dire anche che ho visto una buona origina. Dimmi cosa ne pensi. Dico come hai detto, è giusto. La Borgoratti, squadra organizzata, ha giocato meglio di noi. Ogni tanto chi gioca meglio vince, quindi giusto. Noi abbiamo giocato, non abbiamo ripetuto la prova di maturità domenica scorsa. Pensavamo probabilmente che adesso il punto era in discesa. No, noi siamo sempre quelli. E anche se non giochiamo organizzati con il coso duro, come dico io, perdiamo ed è giusto che abbiamo perso. Paolo, ho visto due gol che sono scaturiti da degli errori al centrocampo. C'è qualcosa da rivedere? Ma no, al centrocampo giocavamo con dei ragazzi giovani, prime esperienze. Si sbaglia tutti, abbiamo sbagliato dall'uno a me e quindi va bene così. Ciao Paolo, grazie, sei sempre disponibile. Ciao.